Oroscopo del giorno, venerdì 27 gennaio 2023 Ariete Amore Il venerdì di fine mese sarà tutto da vivere tra un'emozione e l'altra con chi avete vicino. L'amore non mancherà e aiuterà a pieno tutte le coppie e anche le nuove conoscenze per chi è single. Lavoro Giove sarà in congiunzione e vi accompagnerà sempre di più verso il vostro obiettivo di lavoro. Toro Amore Questa potrebbe essere una nuova giornata di tensioni in ambito amoroso. Purtroppo con il partner ci saranno dei problemi, delle discussioni piuttosto pesanti. Non andrà poi così bene neanche perché è single. Lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte e potrebbe portare a delle nuove possibilità interessanti. Gemelli Amore Ultimo giorno con venere in una posizione favorevole. Il pianeta dell'amore sarà dalla vostra parte per le ultime ore durante questo mese. Per questo dovrete fare attenzione a quello che potrebbe accadere invece da domani. Lavoro Energie alte vi porteranno a lanciarvi in qualche impegno importante e tutto nuovo. Cancro Amore La giornata odierna sarà molto tranquilla e serena per chi è in coppia, ma anche per chi ancora non lo è. Anche per i quali non impegnati in una storia ci potrebbe essere qualcosa. Lavoro Mercurio e Giove non saranno dalla vostra parte e questo porterà a delle conseguenze un po' spiacevoli a livello professionale. Leone Amore Finalmente a partire da questa giornata potrebbe arrivare qualche bella emozione da vivere con chi amate. Per i single potrebbero esserci delle novità, magari un nuovo incontro che potrebbe portare una certa passione. Lavoro Tutto andrà molto bene sul posto di lavoro durante questo ultimo venerdì di gennaio. Vergine Amore Da questa giornata del mese inizieranno ad esserci un bel po' di problemi in amore. Venere infatti entrerà in opposizione e comincerà a portare in toppo nel rapporto con il partner o con una conoscenza nuova nel caso dei single. Lavoro Mercurio potrebbe continuare a donarvi un qualcosa in più sul posto di lavoro. Interessante venerdì professionale, anche se la stanchezza si fa sentire. Bilancia Amore Per le emozioni e i sentimenti questa sarà una giornata decisamente molto buona. Venere sarà dalla vostra parte e potrebbe portare anche a delle conoscenze fortunate per chi è single. Lavoro Male al lavoro con le posizioni opposte di Giove e di Mercurio. Scorpione Amore Con il partner le cose andranno molto bene, soprattutto rispetto a qualche giorno fa. Le stelle potrebbero favorire di molto anche le nuove conoscenze di chi ha il cuore libero da impegni. Lavoro Mercurio vi aiuterà al lavoro, anche nel rapporto con i colleghi e con i vostri collaboratori. Non dovrebbero esserci imprevisti professionali. Sagittario Amore Amore Questo sarà l'ultimo giorno del mese con il pianeta dell'amore in buona posizione per voi. Vi converrà a sfruttare i rapporti personali per oggi. Da domani potrebbero arrivare alcuni inconvenienti sentimentali. Lavoro Con il giusto impegno e un po' di pazienza potrebbero arrivare finalmente i tanto attesi risultati. Capricorno Amore Oggi avrete a che fare con un giorno molto sereno con la vostra dolce metà. Perché single invece potrebbe esserci qualche conoscenza nuova, ma probabilmente nulla di che. Lavoro Potrebbero esserci alcuni ostacoli professionali, perché giove non sarà proprio dalla vostra parte. Acquario Amore Ultimo giorno del mese con qualche emozione in più nei rapporti, perché avrete la congiunzione del pianeta dell'amore. Anche perché single potrebbero esserci delle conoscenze destinate a durare nel tempo. Lavoro Ci saranno delle possibilità interessanti grazie al buon aspetto di giove, per poter ricevere risultati e gratificazioni. Pesci Amore A partire da oggi ci sarà una bella congiunzione di venere e finalmente arriveranno le emozioni tanto attese. La passione e le emozioni non mancheranno né per le coppie né per le conoscenze nuove. Lavoro Ancora stress purtroppo sarà previsto sul posto di lavoro. Il weekend è vicino e molti di voi potranno riposare e recuperare. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Ancora stress purtroppo sarà continuata.